L'artista partecipò regolarmente alle mostre del Moderner Bund, in particolare alla mitica prima esposizione al Grand Hotel Dulac di Lucerna e a quelle presso le gallerie Neupert e Tanner. Nel 1911, grazie alle molte conoscenze del gruppo, Gimmi pote esporre i suoi dipinti all'Armory Show del 1913 a New York. Qui venne presentata per la prima volta l'arte contemporanea dell'avanguardia europea, fra cui opere di Kandinsky, Picasso, Matisse, Braque e Duchamp. Grazie a tutti.